I finanzieri dell'attenenza di Intropea nell'ambito della quotidiana e costante attività finalizzata tra l'altro alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di ambientale hanno sorpreso in territorio rurale del comune di Ricadi due soggetti a bordo di un autocarro intenti a scaricare incontrollatamente sul suolo, quindi nel nudo terreno, rifiuti provenienti da lavorazione nel settore dell'edilizia. All'atto dell'intervento delle fiamme gialle, il cassone dell'autocarro, ancora in posizione rialzata, era stato già svuotato e i soggetti responsabili, nel frattempo identificati dal militari, non sono stati in grado di fornire le autorizzazioni. Gli immediati accertamenti intrapresi hanno consentito di acclarare che i rifiuti risultavano provenienti dalle lavorazioni svolte da un'impresa edile del luogo. Al termine delle attività ispettive, i finanziari hanno penalmente sequestrato l'autocarro utilizzato per la consumazione del reato ambientale e denunciato all'autorità giudiziaria il rappresentante legale dell'impresa edile produttrice dei rifiuti. Contestualmente la Procura della Repubblica di Vibo ha richiesto alla GIP la convalida del sequestro dell'autocarro, il quale, ravvisandone i presupposti di legge, ha convalidato il sequestro. Sono state informate tutte le autorità e gli enti competenti al fine di avviare immediatamente la bonifica dei luoghi interessati per evitare un ulteriore aggravamento della già precaria condizione ambientale. L'operazione delle fiamme gialle rientra nell'ambito della costante e miratazione di contrasto ai reati ambientali al fine di salvaguardare alcune delle località più belle del litorale vibonese.